Assemblea dei sindaci dei Monti Dauni a Bovino con la Regione Puglia rappresentata dall'assessore Gianni Giannini. Tanti problemi in agenda, ma quello che ha fatto alzare la voce a più di un sindaco è stato il costo di smaltimento e trasporto dei rifiuti, aumentato vertiginosamente con conseguente raddoppio delle cartelle Tari. Il più arrabbiato è stato il sindaco di Rocchetta Sant'Antonio, Valentino Petruzzi. Mi arriva una carta della Regione Puglia in cui il trasporto dei rifiuti, la fazione organica, io passo da 62 euro a tonnellata a 198 euro a tonnellata per l'umido e per quanto riguarda la indifferenziata da 82 euro a tonnellata a 298 euro a tonnellata. Questo significa a bilancio chiuso, cioè io ho già approvato il bilancio col piano Tari e le tariffe, ho già emesso gli F24 per il pagamento, adesso mi trovo, mi troverò con 60-70 mila euro in più da dover chiedere ai cittadini per colpe non nostre. Io mi chiedo, già all'inizio dell'anno c'è stato proprio qualcosa di schifoso perché quando riguarda l'ecotassa, noi siamo un paese che nonostante abbiamo un alta percentuale di anziani, siamo arrivati a punte anche dell'80% di raccolta differenziata e che faccio io? L'ecotassa mi passa da 6 euro e 27 a 12 euro e 70, me la raddoppiano e poi mi trovo questo. Questo è il fallimento totale della gestione dei rifiuti della regione pubblica, punto.